Ciao bambini, buongiorno, sono la maestra Paola della scuola Sacro Cuore di Pescara. Oggi voglio farvi vedere come sconfiggere il coronavirus. Bambini, guardate, quando voi andate al parco, andate a fare la spesa con la mamma, andate sotto in giardino a giocare, vi sforcate le mani con i batteri, con i virus. Qui dentro c'è anche quel cattivissimo del coronavirus. Sapete come lo faremo a sconfiggere noi? Ci dobbiamo sempre lavare le mani con il sapone, benissimo. Guardate, se io vado sotto al parco e tocco i batteri, tocco il coronavirus, non succede niente. Però se io torno a casa e mi lavo bene bene le mani con l'acqua e il sapone, guardate cosa fa il virus. Via, torna a casa tua! Mi raccomando bambini, lavatevi sempre bene le mani. Un bacione dalla maestra Paola e a presto!